E' ritenuto vicino ad entrambe le consorterie mafiosi di Gele, possedeva numerose attività inquinate e compromesse, il gelese a cui la DIA di Caltanissetta ha confiscato beni da 2 milioni di euro. Destinatario del provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, generale Giuseppe Governale, e Cristoforo Palmieri, 49 anni, gravato da numerosi precedenti di polizia, tra cui rapina, estorsione, ricettazione, furto, porto abusivo e detenzione illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La sua vicinanza a Cosa Nostra e Stidda gli ha permesso nel tempo di costituire nell'ambito dell'imprenditoria gelese numerose attività economiche, da cui è riuscita a ricavare un'ingente ricchezza personale. Le investigazioni che hanno disvelato la sua pericolosità sociale sono state confermate dal Tribunale nisseno, il quale ha applicato nei suoi riguardi la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni. L'odierna confisca ha interessato la ditta individuale Curvaro Salba di Acata, il 50% del capitale della CIM Costruzioni Industriali di Gela, la CIM Impianti Industriali Società e Liquidazione di Vittoria, la Sociest di Gela con unità locale a Parma, la Sociest di Acata e la RC Tecnologie di Gela, la Padis Isolamenti con sede legale a Bucharest in Romania, con il domicilio fiscale a Milano, ma attività a Gela, il 55% delle MSG Costruzioni di Gela, la Montecchio Bulling di Montecchio Maggiore, 8 beni immobili tra fabbricati e terreni ubicati a Gela e Vittoria e numerosi rapporti bancari.